Come che non vi ho mai conosciuto ragazzi siete più forti di Sapete che le luci fluorescenti lampeggiano la stessa frequenza del cervello Lo sai che il cervello non lampeggia Non ci vuole un neurochirurgo per capire che non può effettuare un'operazione Cosa sa dirmelo? Alla glicemia alta Appena sarà idratato si riprenderà Che sollievo Meno male Perché? Quello del dipartimento arriva tra 20 minuti Che cosa gli è successo? Glicemia alta L'hai detto tu adesso? Chase sta facendo le analisi Per ora se la contendono l'epatite e la gastroduodenite Allora oggi è davvero il tuo ultimo giorno? Parto domani Per quanto prendi l'aspettativa? Dipende Da quel trial che è rischioso Bla bla bla, credi che non dovrei farlo? Messaggio ricevuto No, io approvo Bruciare le tappe e morire giovane è una stronzata Se hai la possibilità di stare bene Davvero, buon per te Ho portato Wilson di qua per rendere la cosa pubblica Come avevi chiesto tu Ti ho fatto pressione Wilson che ha forzato la finestra ti ha fatto pressione Se ti impongo questa storia non funzionerà Non hai niente da rispondere? Giochiamo 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 Giochiamo